Azioni Juventus giù in borsa. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Dopo la penalizzazione di 15 punti combinata dalla Corte d'Appello Figgici a seguito delle indagini sulle plusvalenze, questo lunedì c'era attesa per capire come la Borsa di Milano avrebbe reagito alla notizia nella prima sessione post-sentenza. Il titolo Juventus non è riuscito a fare prezzo in avvio di contrattazione, per un calo teorico dell'11,2% del titolo al momento dell'apertura. Gli scambi sono poi partiti attorno alle 9.30 e possono essere seguiti in tempo reale sul sito di Piazza Affari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti